Seconda giornata della 7 Cup girone 6 tra Aviator e OnlyFans L'Aviator dopo la bella vittoria all'esordio sugli eleganti SAP non vuole fermarsi La OnlyFans invece alla ricerca dei primi tre punti dopo la sconfitta all'esordio Pelicolosissimo l'OnlyFan ma porco salva tutto con un grande intervento Sul versante opposto Cordedu si libera e va alla conclusione blocca Tutukedu Termina qui la prima frazione di gioco pochissime le emozioni tra Aviator e OnlyFans Che vanno a riposo con il risultato in perfetta parità sullo 0-0 La seconda frazione di gioco si apre con questo tentativo portato da Gabriel Adamu dalla distanza Ma Okedu blocca senza difficoltà Sul versante opposto Balloi dalla lunga distanza impegna Porco che si distende e salva ancora una volta l'Aviator Le occasioni iniziano a fioccare ci prova l'Aviator alla lunga distanza Si salva Okedu la retroguardia poi spazza via in angolo Il gol è nell'aria e al 45esimo Pizzalis porta avanti l'Aviator sull'OnlyFans 1-0 fra le due squadre Passano solamente 60 secondi e Porco sbaglia il dribbling su Mattia Lai Il numero 10 riconquista palla e apporta sguarnita trova il paregio L'OnlyFans prova a spingere ma Porco si riscatta con un grande intervento salvando l'Aviator E su quest'ultimo tentativo con la palla spazzata via e contesa fra le due squadre Arriva il triplice fischio del direttore di gara Termina 1-1 tra Aviator e Olifan con i gol siglati da Pizzalis e Mattia Lai Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!